Cazzo, il gioco delle sedie, devi leggerti adesso, il gioco delle sedie Allora, purtroppo l'hanno tolta dal workshop di Steam sta mod Morono Mor like il gioco che non mi scarico No, a me semplicemente non prendeva Che non voglio tenere le PCS su una notte di nuovo Ma a me piacciono i giochi un po' picchiadurosi, però le preferisco in 2D Eh infatti... Eh... Eh... A me piaceva giocare in 2D Però a me piace uno di più... Allora... Ora... L'ho parlato di Finder anche se i server sono venuti insieme con lo spunto Non c'è stato verso di giocare con un mio amico che ha la quadra E... Comunque... Per gli altri... E' una questione che ci metteva nei server spiegati... E' una questione che ci metteva... E' una questione che ci metteva... E' una questione che ci metteva... E' una questione che ci metteva...